Quindi a questo punto direi... Nooo, l'hai in... No, 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 no Ma cosa? Qual è il tuo problema? Lui urla Urla anch'io l'ora Ma guarda, vai tranquillo, è che qua Che simpatici! Ma guarda, ancora tranquilla A me piace giocare a Fortnite Possiamo giocare per favore? Sì, sì, possiamo A questo punto direi... Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono T e da oggi siamo su Fortnite Insieme a un paio di amici Eh, iniziamo subito a Benito ragazzi Allora, siamo insieme a un paio di plebei ragazzi Soprattutto a Gabbia Plebei sei tu, plebei sei tu che non hai la skin No, 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 allora Prima di tutto plebei e Gabbia Ah, ok Che cazzo è Quindi insomma sarà un po' un bordello diciamo Sì, sì, io... No, si ferma Allora, vediamo un po' chi sarà denunciato subito Oh, Stefano, facciamo un vocalizzato Pronto, pronto, no? Ehi... 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 E' proprio veramente una prossima persona, io gli sparo pure, no chi ha la piccola? Che cazzo Intanto ho fatto una kill e ho fatto un vento Ma come sei vecchio? Mi vengo pure il cespuglio vaffan... Scusa Ma guarda come volevo Fammi passare dioborn Eeeh ci devi invogandare Allora, Dio è tutto forche buono In effetti Perchè non resiste? In effetti C'ho il tipo col jetpack che fa il crocio in cielo Ho questo altro Cofè questo qu'uomo Ho ucciso, l'ho ucciso Ho la kill Oyy, m3rd, vecchio Ci sta Oh, dica Non lo scala Oh, yeah Oh, eh, sto vecchio Ma che cazzo è successo? Ma qualcunoooo Gannate! Le abbiamo notate vecchia Qualcuno, ma perchè non c'è spuglio sta fraccia? Ma Avo scusami dopo alle sei e mezza, al posto di andare al campetto di Villa Revoltella possiamo andare qua Puoi non raccontare i cazzi miei in giro su questo cazzo Oh no, perchè verranno a sfiarti sicuramente Vecchio adesso... Indietro nel tempo SPACCHIAMO LA POSTA Guarda vecchio se non dicevi quella frase c'era una minima possibilità che tagliavo questa parte ma adesso la dovrò mettere per casa Mi dispiace Ah ok No mamma no, non adesso Dimmi Inculato No dai La mamma serba no Cioè a me che sta facendo un video su youtube e sono io Ciao E mi chiede come sta perchè sta andando una festa Stai molto bene mamma Stai molto bene mamma Stai molto bene mamma No, vabbè, buon divertimento Ciao, buon divertimento Bene, torniamo al video I pino I pino Aiuto sto morendo come un cretino idiota Noo Va bene Aiuto No, vado dentro Noo 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 Ok sono morto È morto No ho rischiato molto devo dire No cosa ho preso Questo volevo ecco Oh a terra Non esco me Oh arrivò Arrivò Da dove? Oh merda Noi Siete morti No organi Nooo sono a terra Ma come sei se ho? Non me lo merito Non me lo merito Nasconditi Guadagnini Nasconditi Sto cercando di nascondere vecchia Ma sono qua ovunque Che cosa vuoi che faccio? Che cosa vuoi che faccio? Carma! Carma! Che cosa vuoi che faccio? Ok Non mi chiamo a te E' il niga! E' il niga! Oh ripieni l'arma, ripieni l'arma fortissima E' anche le bende Ma no! Charlie Hebdo! Come sei? Non si capisce niente E' down Lascia quel fucile del cazzo con l'ACOG Lo capisci o si o si? No Ci vediamo, ciao Mi voglio sterminare Cioè ma tu come cazzo hai fatto Fai una kill e me lo spieghi? Non lo so vecchio, sinceramente non saprei dirti Ah non so che di patetico sta cosa Oh vecchio, intanto io non trovo Ma addonna, mi stanno lanciando le contraere E' altro che Ecco qua vecchio, fili la porta e sei vivo Sei salvo Ma perchè sei salvo? La porta mi protegge vecchio Come sei? No no vecchio Gatti e bussano a provare ad entrare Esattamente Ti curi il polso per favore Ti ha sparato su tutto il corpo Vecchio, guarda qua la tattica incredibile Non ho capito E' omega Guarda no Eh non mi dire Oh merda Potevo farcela un botto dai però Benvenuti a tutti ragazzi In questo nuovo video Io sono T E' il rappresentante fortnite Ragazzi Sono un nigga In questo nuovissimo gioco Nessuno ci ha mai giocato prima Infatti le 100 persone che ci sono in questa robbie Sono tutti dei botto Aspetta T, T Stai fermo E' TG Balla No Balla Balla puttana No Ammazzati Guarda che io ho un'arma migliore della tua Come ti permetti Vabbè io ho l'arma dell'intelligenza Oh ti ho impregiato Ah L'arma dell'intelligenza stupida Andiamo alle lecessi No qua No andiamo alla cima in 4 Non c'è abbastanza bucchio Oh merda Oh merda vecchio Rivembero 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 Grande gabbia Grande Ottimo luogo da dove andare Devo dire Da dove andare? Farla bene Vabbè Dai Mamma mia Che cazzo Ma dove stiamo andiamo? Dove stiamo andiamo? Più di così Ma se che non fa ci denuncia per copyright Ma magari No Comunque Citerei a precisare che questo tizio non ride veramente così Lo fa solo finta Perché è stupido Lo fa solo finta Lo fa solo finta No Io ho rito com'è Stra vecchio Oh vecchio in realtà Anzi scusami La vera 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 Perché sto ridotto nooo aspettalo dove togliatti mamma mia oh merda stelizio vai mi ha cerchionato di brutto il matto ma come se sta roba anche ti sta morendo anche ti sta morendo sono morto il drop e il dold mazzo ma come se io me ne vado ma dove sei cazzo mongoloid cos'è John Wick siamo John Wick qualcuno jumpa ah lo vedo colpito jumpa ma dietro attenzione ma dietro dove dietro di noi ma definisci noi ah ho capito nooo ho visto aia puttana aia nooo nooo ma come se bene 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 comunque io sono stefan saluto mia mamma steferin nooo luco spettacolo io sono caramella super dura il tamarindo ah ok me ne vado avvio e noi ci vedremo sicuramente nel prossimo video ma perchè è uscita prima dell'outro come si permette ci starebbe bene ok ok quindi ragazzi questo era tutto quello che potevamo fare per questo video e noi ci rivedremo sicuramente nel prossimo video ciao vecchio ciao